Musica Buonasera ai telespettatori di Rossini TV, benvenuti a questo appuntamento con queste tappe di avvicinamento al festival. Anche questa sera abbiamo con noi Cristian Della Chiara, direttore artistico del Festival dei Gatti. Buonasera a tutti e buonasera ai telespettatori. Qui noi continuiamo a chiamare il nostro percorso un avvicinamento e continuiamo a dire verso il festival, Cristian, ma qui questa sera possiamo dire che siamo ormai dentro il festival. Direi di sì, il festival è già iniziato, ha iniziato a scaldare i motori e piano piano si sta avvicinando a quella che è la fase un po' più significativa, che è quella del concorso. Già da qualche settimana è in corso una mostra fotografica, che è il tradizionale appuntamento di inaugurazione del festival, dove i nostri appassionati hanno possibilità di rivedere le foto degli spettacoli dello scorso anno. Una mostra per la quale ringraziamo il fotoclub di Pesaro, nostro partner da tanti anni e che appunto sono coloro gli autori di questi scatti. Quindi partita la mostra fotografica nella piccola galleria comunale, quindi in via Branche, ed è visitabile. Poi piano piano si sono avvicendati altri appuntamenti. Abbiamo iniziato anche con gli spettacoli, perché abbiamo iniziato con il GAD Festival Ragazzi, in una collocazione nuova, perché quest'anno tante cose sono nuove, alcune per scelta, alcune per ovvi motivi di opportunità. Quindi il tradizionale appuntamento con gli spettacoli dei ragazzi non più al mattino, durante l'orario scolastico, in cui gli studenti erano felici, ovviamente, ma anche i professori felici di portare gli studenti a teatro a vedere gli spettacoli. Quest'anno, per motivi, ahimè ben noti, non è possibile comportarsi in questo modo. Quindi abbiamo spostato nel pomeriggio anche gli spettacoli del GAD Festival Ragazzi. E quindi abbiamo proposto a compagnia Accademia di Pesaro, Cari Pagliacci, uno spettacolo inserito in questo sottoinsieme, che abbiamo chiamato Vettrina Pesaro, cioè un omaggio ad alcune delle produzioni più significative, recenti delle compagnie pesaresi, quindi Vettrina Pesaro, in cui faranno parte anche il Teatro delle Ombre e il Teatro della Piccola Ribalta. Quindi domenica pomeriggio, Cari Pagliacci, e lunedì pomeriggio, sempre nell'ambito del GAD Festival Ragazzi, il Malato Immaginario, proposto da una compagnia di giovanissimi attori, che sono venuti da Trento, felicissimi tra l'altro di questa esperienza, di conoscere il nostro festival, di conoscere anche la nostra città, sono stati qua qualche giorno, hanno proposto appunto il Malato Immaginario di Moliere, ovviamente, è una compagnia di Gardolo in provincia di Trento. Ma, poi ti ridò la parola, però completo questa carrellata di cose, in realtà, dicevi bene tu, siamo già nel mezzo del festival perché altre sezioni sono partite. È partito il ciclo di incontri dedicati alla commedia dell'arte a cura di Giorgio Castellani. Giorgio Castellani, per tantissimi anni, è stato direttore del Teatro Rossini, ora, in questa nuova fase della vita, si sta dedicando allo studio e quindi sta approfondendo soprattutto lo studio del teatro 5, 6, 700 e quindi ha messo particolare cura nello studio appunto della commedia dell'arte e ci proporrà una serie di quattro incontri. Già negli anni passati avevamo avuto delle puntate su questo tema, sempre a cura di Giorgio Castellani, quest'anno in maniera più organica, quattro incontri in cui verranno affrontati, hanno già iniziato ad essere affrontati, dei temi di commedia, quindi come nasce la commedia dell'arte, il canovaccio, i personaggi di commedia e come poi dall'Italia si è diffuso un po' in tutta Europa ed è diventata uno dei marchi di fabbrica più prestigiosi dell'Italia nell'Europa del 5, 600. Quindi Giorgio Castellani per questo ciclo di incontri sulla commedia dell'arte e poi devo dire che c'è stata anche l'inaugurazione vera e propria. Abbiamo rotto la bottiglia sulla chiglia della nave perché proprio ieri pomeriggio, sempre nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, si è tenuto l'evento ufficiale di partenza del festival in cui abbiamo raccontato ancora le novità, le sorprese, i contenuti di questa edizione ma soprattutto abbiamo fatto anche altre due cose, abbiamo lanciato il bando per la terza edizione del premio Conti, poi magari avremo modo di dire qualche parola in più su questo premio Conti e un'altra cosa a cui tengo tantissimo, abbiamo potuto presentare il libro di Claudio Sora. Claudio Sora è stato, oltre che direttore del festival per tanti anni, uno straordinario attore che purtroppo ci ha lasciato a causa di questo terribile male che ha colpito il nostro territorio, il mondo intero, lo scorso aprile, però siamo felici di aver potuto comunque presentare, avere l'occasione di ricordarlo con la presentazione di questo suo libro Aneddoti dietro le quinte, che è un libro delizioso di ricordi della sua lunga e importante carriera teatrale, quindi abbiamo presentato questo libro come momento d'inizio del festival che in realtà per intero gli è dedicato a questa persona a cui abbiamo voluto e vogliamo ancora tanto bene. Siamo alla terza puntata e ovviamente dentro di noi e in cuor nostro pensiamo che i tre spettatori abbiano seguito le altre due e sappiano già tutto, però siccome ci potrebbe essere anche qualcuno magari che sull'onda del successo delle prime due puntate ha deciso da questa sera di seguirci, allora ricordiamo che il festival giunto alla settantatresima edizione continua ad aggiungere novità a quelle di cui parlava poco fa Christian e soprattutto questa novità importante attorno alla quale ruota tutto, ovvero la gara è concentrata nel tempo. Le compagnie che si esibiscono con l'obiettivo di vincere il premio principale o uno degli altri premi, si esibiscono comunque tutte le sere, ovviamente sequenzialmente, per un periodo di giorni ben focalizzato e naturalmente questa costituisce la novità principale attorno alla quale ecco perché sono nate tutte queste altre attività collaterali, alcune già erano presenti, alcune già venivano fatte, ma in questo caso vengono quasi ancora più sottolineate e valorizzate proprio da questa unicità dell'edizione del 2020. Hai fatto benissimo a ricordarlo, è un'idea che avevamo già da un po' ma che quest'anno abbiamo avuto possibilità e direi anche un forte incentivo a metterla in pratica perché la sospensione dell'attività teatrale dei mesi passati ha fatto sì che i calendari siano un po' più complessi da gestire, quindi è stata anche una buona opportunità, una buona occasione per noi permettere in piedi questa edizione, riservandoci 10 giorni, una finestra di 10 giorni in cui il Teatro Rossini tutte le sere ci sono spettacoli in concorso, tranne due sere in cui ci sono spettacoli fuori concorso. Quella finestra Pesaro di cui parlavo prima, che considerano anche di prendere, tirano un po' il fiato alla giuria, che diciamo per due sere può andare a teatro più rilassata senza dover valutare gli spettacoli, le due compagnie pesaresi che presenteranno, aspettando Godot, la compagnia delle ombre e 7 minuti per la compagnia della piccola ribalta. Tra le cose che sono già in corso, però ne ho dimenticata una, che pensavo che avresti potuto dire tu, perché in realtà ne sei direttamente coinvolto, perché abbiamo il grandissimo piacere, direi anche onore, di ospitare un workshop dedicato alla scrittura drammaturgica condotto da Lucia Calamaro. Lucia Calamaro è un'amica del Festival, è stata presidente della seconda edizione del concorso del Premio Conti e in questi giorni, è iniziato proprio poche ore fa, questo workshop che durerà per qualche giorno, in cui Paolo è impegnato, poi magari ci dirà, invertiamo i ruoli, ci racconterai come sta andando questo corso e ricordo però domani pomeriggio, non ci prendiamo il merito, è stato un caso, però un caso fortunato perché al Teatro Rossini è in programma domani uno spettacolo di Lucia Calamaro, quindi era un'occasione troppo ghiotta per non fare anche un incontro pubblico fra Lucia Calamaro, autrice, e Lucia Mascino, attrice e protagonista dello spettacolo, quindi domani pomeriggio alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini Lucia e Lucia dialogheranno sullo spettacolo e sul corso e un po' sul teatro in senso ampio. Sì, il corso devo dire che è stato comunque una bella operazione di comunicazione di Francesco Corliano, diciamocelo, perché è stato molto bravo a costruirci intorno una narrazione, non poteva essere diversamente, e che mi ha subito, da subito incuriosito. Io, magari alcuni telespettatori lo sanno, mi diletto, mi diverto a scrivere, ma ero stato sempre molto alla larga da tutto quello che aveva a che fare col teatro, forse per qualcosa che poteva scontrarsi con invece certe particolarità e certe abilità di mio padre Carlo. E questa volta, sollecitato anche da questa comunicazione, e anche da Francesco stesso, ho detto quasi, 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 se riesco a trovarmi quattro giorni buoni, e diciamo che alla fine me li sono segnati, me li sono barrati nella gente, ho detto questi quattro giorni buoni lo sono diventati. Esatto, lo sono diventati, e devo dire che è una cosa che mi interessa molto, perché è proprio un approccio completamente diverso a qualunque altra modalità di scrittura alla quale io sono abituato, alla quale mi sono approcciato. Con un retropensiero lontanissimo, te lo svelo, lo svelo qui, tanto siamo quattro amici, che è quello di tirar fuori qualcosa, anche dal mio unico romanzo, che chissà, chissà, magari potrebbe anche venire fuori come testo, insomma. Allora, mi permetto di raccogliere l'assist, perché se verrà fuori qualcosa di teatrale dal romanzo, potrà essere, potrà partecipare al concorso premio Conti, quindi approfitto per ricordare che cos'è il premio Conti, ed è un'iniziativa, direi, una delle tre possenti gambe su cui poggia l'associazione Amici della Prosa. Una, ovviamente, è il festival di cui stiamo parlando, una è l'attività con le scuole che facciamo tutto l'anno e che intensifichiamo durante il festival, l'altra è il circo di lettura, che è diventato ora il premio Conti. Da qualche tempo c'è il circo di lettura, appunto, un insieme di appassionati che legge i numerosissimi copioni che ci vengono sottoposti, li recensiamo e quelli che riteniamo più meritevoli li pubblichiamo sul sito disponibili per essere scaricati e rappresentati, incentivando così la rappresentazione di testi italiani contemporanei. Da questa felice esperienza, dopo poco tempo, due anni fa, è nata l'idea di un concorso, un concorso molto articolato e che questa articolazione, diciamo così, ne fa la sua unicità e con orgoglio dico anche la sua collocazione già a un livello molto alto nel panorama italiano, perché non solo c'è un premio di drammaturgia, quindi tanti copioni, nella seconda edizione erano già quasi 50 che ci sono stati sottoposti, tanti copioni, viene scelto il più bello, quello che la giuria ritiene appunto il più bello, ma la seconda parte del concorso prevede che al premio in denaro, che è comunque ben gradito ovviamente, segue un secondo premio forse ancora più importante, perché il testo che vince il premio Conti poi vince anche la possibilità di essere rappresentato, quindi attribuiamo al gruppo teatrale universitario che ci fornisce il progetto che ci intriga, che ci piace di più, la facoltà di metterlo in scena. Quest'anno facendo una capriola iperbolica, quindi nel festival di quest'anno, presenteremo in prima assoluta la messa in scena dello spettacolo vincitore del primo premio Conti, premieremo i vincitori della seconda edizione del premio Conti e lancieremo il bando del terzo premio Conti, quindi tre anni in uno proprio per questa biennalità che caratterizza il premio Conti. Quindi diciamo veramente un unicum credo in Italia, perché è un concorso così articolato che si sviluppa sui due anni in cui ha una prima fase in cui si premia il testo, nella seconda fase il testo lo si vede messo in scena secondo l'idea di questi giovani attori dei gruppi teatrali universitari. In tutto ciò Lucia Calamaro entra perché, come ho detto prima, era presidente di giuria della seconda edizione, perché al gruppo di soci lettori che fanno la selezione più grande, quando si arriva a un numero più ridotto, la giuria viene ampliata da figure importanti di riferimento del panorama culturale italiano, quindi la presidentessa era appunto Lucia Calamaro nella scorsa edizione ed era affiancata al docente di storia del teatro, Francesco Giannangeli, che insegna l'Accademia di Bologna, e al critico teatrale Andrea Porcheddu, molto amico della città ma che ha una figura nazionale fra i più importanti critici teatrali, molto amico del festival perché già presente ha seguito tutte e due le edizioni che abbiamo portato avanti. Bene, allora la formula di questo nostro verso il festival, quella che ci siamo inventati quando abbiamo pensato a queste tre settimane di avviamento, di tappa, è quella di introdurre, ma introdurre con larghezza di vedute, di contenuti e tutto quanto, però introdurre una commedia delle tante che sono arrivate e delle tante che sono state rappresentate poi nelle precedenti edizioni, ricordiamo questa è la 73esima edizione, scegliendola con criteri che all'inizio vedevamo più stringenti, adesso insomma quelle che ci piacciono. Rigorosissimi criteri casuali. Esatto, esatto, soprattutto che il DVD funzionasse bene, che fosse televisivamente trasmissibile e a questo punto mi sono quasi in porto che fosse anche divertente perché a questo punto vogliamo alleviare le serate dei nostri telespettatori. Per cui a questo punto, in un paio di minuti, Cristian, introduciamo la commedia che abbiamo scelto per questa sera. Rapidissimo, questa sera c'è un classico, un classico che forse è più famoso nella sua versione cinematografica, ma altrettanto lo è anche in quella teatrale, ed è Lana tra l'arancia. Io ricordo che bambino vidi il film al cinema, ma proprio molto molto piccolo ero, con Ugo Tognazzi, Monica Vitti tra le altre, Barbara Boucher, una straordinaria commedia in cui c'è un quadrangolo amoroso, diciamo così, due coppie molto molto divertente, e lo vedremo appunto rappresentato da una compagnia, Gad Trento, molto bravi. Una cosa curiosa, che ricordo di questo spettacolo, che ci sorprese, ma forse anche no, è che, confesso che non ricordo se tre o quattro anni fa, forse anche cinque, l'abbiamo portato al festival, ma ricordo che il teatro era pieno, pieno di studenti, che scelsero di vedere una cosa un po' diversa, diciamo, dai canoni di scelta più ortodossi, che fanno le scuole, che si orientano su dei classici, su dei testi che ritrovano anche nel percorso scolastico. Non so per quale motivo, ma il teatro era pienissimo di studenti, che apprezzarono tanto lo spettacolo, al punto che, se non ricordo male, fu anche premiato per il gradimento del pubblico, come spettacolo più gradito dal pubblico presente in sala. Divertimento assicurato, attori molto bravi, riuscita cinematografica, garantita da Paolo, quindi direi che aveva una scelta che non poteva essere migliore. Per cui, a questo punto, azzardando una teoria, che sia stato un insegnante illuminato, che magari a quel punto, capitandogli in mano il De Pliant, 4-5 anni fa, ha scelto e ha detto ai ragazzi, guardate, fidatevi di me, eccetera, che sarebbe bellissimo, perché questo dovrebbe succedere. Noi invitiamo tutti i telespettatori a restare ancora sintonizzati, anche al termine di questa nostra chiacchierata, per seguire questa rappresentazione, dandovi appuntamento alla prossima tappa conclusiva. Naturalmente noi seguiremo comunque il festival, con degli speciali che vanno dall'inizio alla fine, alla premiazione e tutto il resto, però con la puntata conclusiva la prossima settimana. Grazie a tutti e grazie Cristian e a prestissimo. Grazie a voi e buona visione. Grazie a tutti e grazie a tutti. Grazie a tutti.